È in programma giovedì 16 gennaio l'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza ad Agropoli. Verrà intitolata la croce di guerra al valore militare finanziere mare costabile di sessa. I lavori iniziati a luglio 2016 sono stati completati nelle scorse settimane quando è iniziato il trasloco dalla vecchia sede Sita in via e risorgimento su lungomare San Marco alla nuova sede in via Fiamme Gialle, già via Antonio Scarpa nei pressi del liceo Gatto. La nuova caserma delle Fiamme Gialle costata circa 1,7 milioni di euro ha una superficie lorda di 592,66 metri quadrati, 188,25 dedicati agli uffici, 121,13 agli alloggi, 8,72 di magazzini, 274,56 per gli altri usi, oltre ad una superficie scoperta di 900 metri quadrati. Il piano terra sarà adibito a uffici, mentre il primo piano verrà destinato agli alloggi. L'inaugurazione verrà anticipata nella giornata precedente, mercoledì 15 gennaio, da un momento musicale che si terrà presso il Cineteatro Edoardo De Filippo in Piazza Mediterraneo ad Agropoli alle ore 18.30, dove si terrà l'esibizione della banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza. Giovedì, invece, alle ore 10.30, l'inaugurazione della caserma. Il 16 gennaio consegniamo la caserma della Guardia di Finanza, afferma il sindaco Adamo Coppola, un edificio costruito ex novo per ospitare il comando Compagnia delle Fiamme Gialle. I locali, prima occupati dai finanzieri di proprietà privata, non erano più idonei. I nuovi locali, con ampi e confortevoli spazi, invece, sapranno rispondere meglio alle esigenze dei militari. Un'altra opera iniziata e portata a termine per un Agropoli che continua a crescere, termina così il sindaco di Agropoli.